Ciao amici di Star Casino Sport, oggi mi trovo al Mapei Football Center e insieme a me, come ormai avete già visto, c'è la Rota della Fortuna, che non sarà l'unico mio compagno di avventure oggi perché abbiamo l'onore di avere Andrea Consigli e Gianmarco Ferrari. Gli sfidanti di oggi dovranno battersi per raggiungere quota 10. Quota 10, cosa sarebbe? Sono i punti da ottenere rispondendo bene a delle domande, domande che verranno scelte in base allo spicchio sul quale capitere al giocatore. Vi racconto gli spicchi, jackpot, sono semplicemente 5 punti regalati al giocatore che otterrà questo spicchio, break time, domande e curiosità che chiederò io al giocatore, quindi nessun punto assegnato a questa domanda, 1v1, sfida uno contro uno di velocità nel rispondere a delle domande un po' che secondo me tanti di voi conoscono, dovranno indovinare dei giocatori in base a nazionalità, ruolo, squadra dove giocano, perdi tutto, non serve che ve lo spiego, il giocatore che prenderà quello spicchio perderà tutti i punti guadagnati o se non li ha guadagnati non perderà nulla, bonus quiz, domanda classica, cultura generale sul calcio e sul sassuolo, valore 2 punti. Chi di voi vuole iniziare? Ma vai, vai, iniziato tu. Giuro. Eccolo là. Eccolo là, andiamo. Ma si è studiata la traiettura, secondo me hai studiato il dosaggio della forza, comunque colpo di scena, i primi 5 punti vanno a te Andrea, Gianmarco dobbiamo recuperare, occhio. Ed è uno contro uno, chiede la regia di far arrivare il buzz di oggi, uno di voi lo tiene, allora ragazzi io vi dirò, nazionalità, ruolo e squadra, e il primo di voi che pensi di saperlo deve toccare il pallone e si pronota. Attaccante, portoghese, Milan. Leao. E siamo 7 a 0 ragazzi, siamo 7 a 0. Tocca girare a? Chi se ne ricorda il giro? A lui. La chiudiamo? Eccolo. Bonus quiz. Chi ha registrato più presenze con la maglia nero-verde fra Gregoire De Frel e Missy Roli? In serie A o tutte le categorie? In corso a suolo. Missy Roli. Vabbè, siamo 9 a 0. Siamo ufficialmente 9 a 0. Vabbè. Vabbè. Però invece è un break time, non hai possibilità di recuperare punti, però ti chiedo una cosa, ti chiedo una curiosità, qual è il brano che ascolti, se lo ascolti nel tragetto per andare allo stadio? Il preferito, quello che ci devo mettere. Ma variano, dipende. Lui nell'ultimo periodo ha ascoltato quella di Annalisa sinceramente. Quello di Sanremo? Sì. Certo. Tocca girare, siamo. Non hai preso nessun punto. 9 a 0, match point per Andrea. Bonus quiz per Andrea. Procedo con la domanda. Con che squadra il Sassuolo ha fatto il suo esordio contro quelle squadra? Il Sassuolo ha fatto il suo esordio in Europa League. Europa League. Sì. Patrico Bilbao. Lucerna. Ah, beh, quelli erano qualificazioni, però. Però è ufficialmente l'esordio. E la competizione è ufficialmente entrata contro Lucerna. Però era parzialmente preparato il ragazzo. C'ero. Bonus quiz. Puoi accorciare le distanze? Ti faccio una domanda. Quale artista ha scritto l'inno del Sassuolo? Oh, e due punti se li ha giudica. Eccolo va. A 14 c'è mai arrivato qualcuno qua. A 14 c'è il record ufficiale della Rota della Fortuna. Non so, non mi ricordo quanto avesse fatto Piramonti. Però Andrea ha vinto. Bravo. È stato bello a partecipare. La sfida di oggi la vince. Tanto o poco direi anche Andrea Consigli. Io vi ringrazio per aver partecipato alla Rota della Fortuna. Mi stringo la mano. Grazie al vincitore. Anche gli ultimi saranno i primi. Ringrazio per aver visto questo contenuto. Ci vediamo al prossimo appuntamento. Ciao da Star Casino Sport. Un saluto a tutti i tifosi nero-verdi. Ci vediamo allo stadio. Grazie a tutti i tifosi nero-verdi.